Musica Eccoci allora, bentrovati ancora a questa sedicesima puntata di Femminile Plurale, l'ultima di questa stagione appunto 2019. In questa puntata, come vi ho anticipato, proveremo a raccontare delle esperienze che stanno lasciando sul territorio, faremo delle domande anche in cerca di risposte da chi di competenza, proveremo a immaginare un percorso di sinergia tra pubblico e privato perché parliamo appunto della sanità, dell'offerta sanitaria ma rispetto a particolari tipologie di esigenze. Quali sono le risposte che vengono date dal territorio, da associazioni, da consultori diocesani e appunto associazioni private rispetto appunto alla domanda sanitaria che a volte non trova risposta nelle strutture pubbliche. Proviamo a capire il perché, proviamo a capire quali sono le risposte che vengono appunto offerte sul territorio. In questa prima parte ci occuperemo della esperienza dell'ambulatorio medico, poliambulatorio medico Moscati, è inaugurato il 12 aprile scorso a Trani e a parlarne con noi Anna Cagliati, psicologa e psicoterapeuta. Ben trovata Anna, una amica di Femminile Plurale, questa volta però ci racconti, tu sei una volontaria di lungo corso perché hai prestato la tua professione in altri ambiti appunto legati alla tua professione di psicologa però in questo caso dovrai raccontarci proprio quella che è l'esperienza legata all'ambulatorio Moscati. Dicevo è il 12 aprile quando viene inaugurato appunto l'ambulatorio Moscati, voluto dall'associazione Orizzonti, parrocchia Spirito Santo e dalla Caritas della città di Trani. È un progetto che nasce proprio con l'idea di rispondere all'emergenza sanitaria a favore di una fascia povera di persone ormai, dobbiamo dire, purtroppo in crescita esponenziale. L'inaugurazione in occasione proprio del 92esimo anniversario della morte di San Giuseppe Moscati. E allora Anna, ripercorriamo questo percorso che aveva portato appunto alla nascita di questa esperienza appunto sul territorio visto che le associazioni che ho citato, parrocchia e Caritas, da sempre si sono occupate delle fasce povere in altri settori. Come nasce questa idea? Allora, intanto grazie, mi fa molto piacere tornare a parlare in questa sede così qualificata. Allora, tutto nasce nel 2008 quando Angelo Guarriello, che io chiamo visionario d'amore perché le cose devono prima nascere nell'immaginazione, poi le coltivi e poi le realizzi. E quindi lui ha creato orizzonti nel 2008 che si occupa, si occupa da sempre, di povertà dal punto di vista economico, dal punto di vista del cibo, ma già allora, infatti se voi vedete le brochure dell'epoca, già allora c'era il progetto di dedicarsi a un altro tipo di povertà, quella subito dopo contigua alla povertà, diciamo, alimentare, che è la povertà, chiaramente, che riguarda il settore della cura, della medicina. Perché, appunto, i dati, i numeracci li hai detto tu e a questo aggiungiamo che 50.000 persone ogni anno muoiono perché c'è un ritardo nelle cure. Tra l'altro sappiamo bene che se non puntiamo sulla prevenzione necessariamente andiamo a incidere su costi enormi per quanto riguarda, diciamo, il servizio sanitario nazionale, che è un ottimo servizio perché spessissimo ci dicono, ma in fondo, però ha naturalmente all'interno dei suoi gap. Uno il discorso del ticket, uno delle lunghe liste d'attesa e un altro, il terzo, per quello che riguarda l'acquisto dei farmaci. A tutte queste, diciamo, necessità risponde questo ambulatorio medico solidale polispecialistico perché ci sono tante professionalità e ancora è aperta la possibilità per chiunque lo voglia di poter prestare il proprio tempo e la propria professione con questo obiettivo. Angelo parla dell'obiettivo povertà. C'è un discorso, appunto, di intervento specialistico, un discorso infermieristico, un discorso, appunto, supportato dal banco del farmaco di dare la possibilità di ricevere farmaci, che è un costo non indifferente. E quindi ci sono molti attori. Noi abbiamo innanzitutto, appunto, il terreno è stato dato dalla parrocchia dello Spirito Santo, quindi il sacerdote Gramegna, Don Gramegna, lui, appunto, si è adoperato tantissimo perché in tempi relativamente brevi, raccogliendo offerte da tutte le parti possibili, che siano privati, pubblici, aziende, l'otto per mille della Chiesa, l'arcidiocesi, anche l'emosigneria apostolica, si è detto che Papa Francesco è intervenuto con questa modalità. Cioè, molti stanno credendo, gli stessi devoti di San Giuseppe Moscati, e i parrocchiani, in ultima analisi, hanno dato il loro contributo. Sul terreno, infatti, e adiacente alla parrocchia, è stato proprio costruito questo poliambulatorio, dove campeggia la frase di San Giuseppe Moscati, che non è la scienza, ma è la carità che trasforma il mondo. Detto da un medico, è veramente una grande spinta. Perché San Giuseppe Moscati? San Giuseppe Moscati perché è stato definito il medico dei poveri. Lui, appunto, nel 1987 è diventato santo per la Chiesa Cattolica. E lui è stato proprio un medico che ha rinunciato persino a sposarsi, per dedicarsi interamente alla sua professione e ai poveri. viveva, appunto, per la professione e per i poveri. E viene ricordato anche perché, sia per quanto riguarda l'eruzione del Vesuvio, sia per quanto riguarda una pestilenza, lui è proprio intervenuto in maniera diretta e personale, mettendo anche a rischio la propria esistenza. Quindi, mi piace di me. È bello, insomma, ricordare la figura di San Giuseppe Moscati, ma proprio al di là, diciamo, della sua figura di medico, proprio per l'attenzione a quelle fasce deboli e povere che diventa poi il fulcro intorno a cui ruota l'esperienza di questi ambulatori. Noi parleremo in questa puntata anche dell'esperienza attiva nella città di Biceglie, legata al consultorio di Ocesano. Ho messo insieme queste due realtà perché hanno manifestato proprio la volontà di attenzionare le fasce più povere. Intanto, Anna, ti chiedo quali sono i servizi che offre l'ambulatorio Moscati e che tipo di utenza si rivolge, perché è da lì che dobbiamo capire quali sono le problematiche che vengono fuori. E quindi qui ci sono una serie di professionisti che hanno messo a disposizione, come ti dicevo, il proprio tempo e la propria professione. Quindi abbiamo ginecologia, abbiamo urologia, abbiamo cardiologia, abbiamo appunto anche interventi di tipo infermieristico, quindi una medicina di base, ma anche interventi strumentali. Infatti l'ambulatorio è attrezzato e sempre più lo sarà per quanto riguarda proprio indagini di tipo strumentale, quelle di base, proprio per dare una risposta immediata alla persona che naturalmente accede, si rivolge a questi ambulatori. Il tramite, perché era necessario trovare un tramite, ecco la figura di Don Raffaele Sarno, che è il presidente della Caritas Cittadina, c'è una specie di carta elettronica, per cui sarà la Caritas che individuerà le persone da inviare e sarà il tramite, oltre anche al medico di base, che potrà farlo. Quindi è un intervento di tipo specialistico, quello diciamo più complicato, a cui accedere se una persona ha difficoltà di tipo economico. Però per esempio la sanità pubblica prevede la stessa esenzione dal ticket quando è in condizioni economiche di disagio. Parliamo di un altro tipo di disagio, Anna? Certo, anche il disagio più nascosto, anche il disagio, diciamo, quello meno apparente. E soprattutto un'altra cosa sono i tempi di attesa. Molte persone, lo sappiamo bene, vanno direttamente pagando di tasca propria per accelerare i tempi. Questa fascia di persone evidentemente non può farlo. Quindi o desiste, oppure trova, appunto, sul territorio, come dici tu, risposte di questo tipo, che è quella del poliambulatorio San Giuseppe Moscati, oppure Biceglie. Ma è una realtà che sta venendo fuori. Di recenti anche a Perugia c'è un'esperienza del genere. Quindi ne stanno venendo fuori tante perché il problema è molto forte, anche con questa immigrazione notevole. Quindi queste sono proprio le fasce con grossissima difficoltà. Anziani, immagino, minori. Sicuramente. Quando parliamo di fasce deboli, poi ci sono delle fragilità ancora più fragili, diciamo, all'interno delle fasce deboli. E quindi sono sicuramente i minori e gli anziani. Quindi, ma saggiamente il poliambulatorio vuole diventare anche un osservatorio perché non basta dare una risposta, bisogna anche capire la portata del problema. Perché insieme al pubblico, perché ricordiamo, non siamo in antitesi col pubblico, non potremmo, non avrebbe senso, ma siamo in supporto al pubblico. Con l'idea poi, un giorno, di poter dare una risposta, che sia una risposta unica, veloce e qualificata. Quindi è chiaro che il nostro lavoro è strettamente connesso con il discorso del servizio sanitario. C'è qualche suggerimento che si può lanciare, per esempio, Anna, rispetto alla struttura pubblica? Cosa potrebbe fare rispetto? Sicuramente un osservatorio, sicuramente capire, oltre a quei numeri, che risposte dare e come mai ci sono delle situazioni così gravi, così lacunose, come 50.000 morti l'anno, come il fatto che la BAT, la nostra BAT, è la regione più povera d'Italia, è quella che accede meno alle cure e alle richieste non sono soddisfatte. Quindi sicuramente una sinergia potrà dare una risposta e quindi un osservatorio è la cosa più qualificata. Poi sicuramente un intervento, una volta comprese quali sono le fasce più fragili, anche un intervento, per esempio, pensavo anche a pensare un intervento in favore dei minori, che all'interno di una famiglia povera sono sicuramente quelli che accumulano più gap, che è un gap culturale, è un gap di studio, è un gap, diciamo, proprio di crescita, di vita, che durante gli anni di formazione è veramente importante. Anna, come si gestirà questo ambulatorio? Come si finanzierà, si autofinanzierà? Ci saranno appunto dei ticket da pagare? Come avete immaginato? Assolutamente no, perché ci sarà una segretaria che in base alle disponibilità dei vari specialisti che, ribadisco, prestano la loro opera gratuitamente e su suggerimento, su invio della Caritas cittadina, darà appunto risposte immediate e subitane alle richieste, diciamo, di queste fasce. Chi vuole e dove vi trova? Allora, noi siamo, apparteniamo alla parrocchia dello Spirito Santo, proprio come, diciamo, situazione... Però ricordiamo, non ha il compito di servire solo appunto la parrocchia, anzi al contrario... Assolutamente no, perché la Caritas è una Caritas cittadina, quindi assolutamente siamo ubicati lì. Lì ci è stato dato questo spazio e lì il parroco si è adoperato perché venisse eretta questa splendida realtà. Per quello che mi riguarda, io sono una psicoterapeuta, sono anche una donna che ha avuto il cancro al seno e mi ero da sempre riproposta di poter dare un aiuto da psicoterapeuta alle donne con il cancro al seno. Immaginiamo poi le donne che hanno una situazione anche di povertà economica, veramente è un momento, immagino, di grossa disperazione. Perché è chiaro, tu accedi alle operazioni, accedi alle cure, ma tutto l'aspetto psicologico va fortemente supportato perché è un momento, diciamo, molto difficile da affrontare e da soli non è semplicissimo. Quindi io, dopo aver fondato il Raggio Verde, che aveva questo obiettivo, esserne uscita, mi sono, diciamo, adoperata e quindi ho colto al balzo l'invito del carissimo amico Angelo Guariello per creare un punto di autoaiuto per le donne con il cancro al seno. Questo, diciamo, sarà il mio ruolo. Tra l'altro ho scoperto, diciamo, di recente che c'è un filo che lega... Ecco, infatti, chiudiamo con questa curiosità che ci hai portato. Sì, c'è un filo che lega la mia famiglia da parte di mamma a San Giuseppe Moscati, al medico Moscati, perché il fratello di mio nonno, che era anche lui un medico, era sempre in diretto contatto un amico fraterno di Giuseppe Moscati e qui ho, diciamo, la fotocopia di una sua visiva, c'era proprio un carteggio tra di loro, un rapporto epistolare, per cui si scrivevano e si chiedevano, insomma, lumi e supporto nei vari casi, perché a San Giuseppe Moscati, al medico Moscati, veniva riconosciuta una grande abilità nella capacità diagnostica. Allora esistevano, come si evince da questa lettera, esclusivamente i raggi X e poi la capacità del medico. E quindi San Giuseppe Moscati era in contatto con questo mio parente e questa cosa mi fa particolarmente sorridere, come se ci fosse, diciamo... Un disegno. Un disegno, sì. Che oggi ingloba anche me e ne sono molto fiera. Grazie Anna per essere stata nostra ospite, grazie per il tuo contributo oggi e in altre occasioni, insomma, seguiamo il tuo lavoro e la tua disponibilità soprattutto. Grazie. Io vi lascio ora la consuetta rubrica di Maria Chiara Pomarico, la Malerba, il suo pensiero, ho segnato il contrario della settimana e ci ritroviamo in studio con l'esperienza di Biceglie e il consultorio. E passa l'ambulatorio, il poliambulatorio, il buon samaritano. Grazie a tutti.